4 a 4 mamma mia buonasera buonasera a tutti ragazzi bentornati qua sul canale dal vostro amico Naic nella casa del pane balloon ma ragazzi stasera sono rimasto veramente uno spettacolo una partita spettacolare per me al di fuori del tifo delle due squadre è stata una partita spettacolare 8 gol visti ma ragazzi ma poi è successo veramente di tutto ma l'ho detto, l'avevo detto anche oggi nel video di oggi che quest'anno il campionato italiano è veramente tanta tanta roba le squadre se la vogliono sempre giocare tutte e vogliono vincere è difficile, è difficile c'è stata qualche partita un po' tattica ma se la vogliono giocare tutte quante e ne escono fuori di queste partite che bene 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 per il calcio, per lo spettacolo perché è tanta roba e poi ragazzi anche oggi tra Torino e Empoli è stata una bella partita anche loro due a due insomma espulsioni, cose c'è un sacco di robe di cui parlare stasera bene lo facciamo insieme ragazzi fatemi prima ricordare una cosa iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ragazzi attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti fatelo ragazzi grazie di cuore perché vedo che lo state facendo in tanti continuate a farlo allarghiamo questa community che è bello io ci sto provando a gusto perciò ragazzi iscrivetevi è gratuito poi per sostenere il canale mettetemi un bel mi piace alla fine di questo video è tutto gratuito non costa nulla ragazzi fatelo che mi fate un gran piacere poi se vi sto sul coglione non fatelo non so cosa dire va bene ragazzi dai iniziamo iniziamo allora Udinese che è partita alla stragrande io ho visto una gran bella Udinese è partita proprio si vedeva che era in campo per giocarsela mentre la Lazio l'ho visto un po' spaisata fin dall'inizio l'ho visto un pizzico spaisata abbastanza nervosa anche perché c'era qualche giocatore Ciro Immobile Milinko Vizio lì dovevo un po' nervosetto non so se era il tempo la pioggia il fastidio della pioggia comunque ragazzi io ho visto meglio l'Udinese ed effettivamente ha fatto un 1-2 poi ragazzi con questo Beto e Deulofeo che salta Deulofeo è pazzesco perché salta sempre il primo uomo e crea una superiorità numerica pazzesca e poi hanno una velocità quei due lì davanti incredibili insomma l'Udinese ha fatto un 1-2 pazzesco 1-0 2-0 partita quasi in cassaforte nel senso che è vero che mancava ancora tanto però la Lazio non era scesa in campo e i presupposti erano quelli di una sconfitta perché giocare così mentre appena subito il 2-0 batte subito la Lazio un po' per rabbia vengono avanti subito e dopo un minuto e mezzo trovano subito il 2-1 ed è lì diciamo che cambia un pochettino lì almeno si pensa che possa cambiare l'inerzia della partita perché pur giocando male riesce a fare un 2-1 subito sai ti rimetti subito psicologicamente anche in partita ed è una cosa buona e invece no non è stato così perché è vero che loro si rimettono in partita però è vero che l'Udinese riprende a giocare e la Lazio sinceramente io la Lazio non l'ho vista nel primo tempo in campo vogliosa di arrivare a un pareggio l'Udinese l'ho vista decisamente meglio e è arrivato al terzo gol meritato allo scadere del primo tempo perciò chiudi il primo tempo sul 3-1 un gran primo tempo dell'Udinese strameritato e diventa tutto molto difficile però ci sono due tempi da giocare ragazzi la Lazio nel secondo tempo è entrato con un altro piglio con un'altra testa e ha riaperto subito la partita con questo lampo di Joao Pedro qua no Joao Pedro scusate con Pedro Joao Pedro quello del Cagli con Pedro e ragazzi ha fatto un tunnel al giocatore l'ha lasciato lì immobile e poi un rimpallo tiro nell'angolino 3-2 partita riaperta subito insomma e poi lì la Lazio si è buttata un po' tutto in avanti non giocando alla Sarri perché di Sarri ho visto ben poco stasera c'erano tanti lanci lunghi e pedalare sulla testa di Milinkovic però in certi momenti bisogna fare anche quello perché quando non arriva il risultato diventa difficile nel frattempo ragazzi 3-2 la Lazio si fa espellere un uomo si fa espellere un uomo Patricio che fa un fallo assurdo perché era già munito poteva evitare cioè vuol dire sì però non è che stava andando in porta a fare i gol poteva benissimo evitare perciò altra tegola rimane in 10 la Lazio sul 3-2 sembrava potesse essere difficile invece no Milinkovic tira fuori dal cilindro questo gol un paio di rimpalli vinti e poi sto tiro a giro all'incrocio di pali un gol spettacolare 3-3 ragazzi ci ha messo del suo l'Udinese perché in 10 contro 11 non puoi non puoi buttare la partita con l'Udinese ha giocato molto bene veramente bene però quando si è trovato in vantaggio per due volte con il doppio vantaggio l'ha gestita male in tutte e due le occasioni insomma 10 contro 11 subisce il pareggio e poi nel frattempo viene espulso anche il giocatore dell'Udinese Molina la partita lì a quel punto si riapre in maniera netta perché poi pure parità numerica insomma la Lazio ci ha provato ci ha provato fino a quando è arrivato anche al quarto gol e ragazzi la partita sembrava praticamente chiusa perché poi dopo lì ti spezza le gambe perché tu sei stato in vantaggio 1-0 2-0 3-1 insomma poi ti hanno pareggiato ok trovarsi in svantaggio a un quarto d'ora della fine diventava difficile diventava difficile e invece no invece no ragazzi l'Udinese ci ha creduto fino alla fine la Lazio ha ammollato un pochettino perché comunque gli ultimi 10 minuti la Lazio ha ammollato si è un po' chiusa per difendere il risultato e ha subito un pochettino il ritorno dell'Udinese che poi è vero che pareggia con una punizione all'ultimo secondo perciò bastava resistere due secondi in più e finiva lì però è vero è vero quello però è vero che anche che era già 10 minuti che gironzolava da quelle parti lì la Lazio si era abbassata tanto insomma ne è uscito fuori una partita spettacolare 4 pari io penso che è un pareggio giusto bello soprattutto per noi tifosi che l'abbiamo vista dall'esterno insomma bello bello una gran bella partita ragazzi il campionato italiano è veramente tanta 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 roba l'ho detto anche prima è veramente bello bello da vedere e anche oggi pomeriggio ragazzi arriviamo anche alla partita contro tra Torino e Empoli uguale partita Torino giocato alla grande ma anche lì secondo me è una partita chiusa sul 2 a 0 il problema è che poi dopo viene fuori l'espulsione del giocatore del Torino riapre un po' tutto subito dopo l'espulsione c'è subito il 2 a 1 insomma l'Empoli poi ha messo un po' lì il Torino è quello che dico io capisco quando una squadra è in superiorità numerica e ti mette lì perché ci sta ma in questo caso era l'Udinese che era in superiorità numerica in vantaggio e si è fatta metterli dalla Lazio e lì l'errore è stato tra le due partite però anche oggi pomeriggio è stata una bella partita spettacolare con occasioni soprattutto poi nel finale dalla parte dell'Empoli ma proprio appunto perché aveva l'uomo in più bene bene ragazzi due gran belle partite complimenti a tutti e due gran bel campionato la Lazio con la vittoria avrebbe agganciato il quartetto per l'Europa League e conferenze così non è però vabbè poco male due punti sotto insomma deve cercare bisogna cercare di vedere un po' più di sarrismo perché lì di sarrismo inizia a vederne veramente poco nella Lazio vedremo vedremo come va a finire va bene ragazzi vi auguro una buona notte vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video ci vediamo domani ragazzi vi auguro ancora ve lo ridico una buona notte e come dico sempre io ciao 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 ciao